musica Ma hai firmato almeno? Venerdì, venerdì si fa tutto. Ci puoi dire se c'è questa clausola, se hai discusso molto? Certo troppo che io come ho detto pensavo a giocare, poi al resto ho pensato tutto il mio procuratore, comunque venerdì si farà tutto. Sei contento? Si è contentissimo. Ci ho parlato? No, non ci ho parlato, insomma vedremo tutto venerdì come ho detto. Sarà l'ufficialità, la conferenza e ci sarà modo di dire tutto. Qui in campo? Qui in campo? Qui in campo? Qui in campo?